solo che non riuscirono a muoversi in campo se riescono a fare questo e ci sono riusciti saranno molto molto forti Federico, Antonio avete espresso entrambi qualche pergettità sulla posizione sulla composizione della barriera rivediamo barriere a 5 con il più piccolo della squadra lo vedete, Jacobsen a sinistra e gli ultimi due comunque non sono praticamente alti ha chiesto di non saltare e obiettivamente hanno messo un uomo davanti alla barriera